Hypnos pace che imbecille sono stato a intraprendere con tanta incoscienza lo studio dei misteri che l'uomo non dovrebbe affatto conoscere che sciocco che folle divino è stato il mio amico colui che mi ha preceduto e alla fine ha conosciuto terrori che forse saranno i miei ricordo che ci incontrammo in una stazione ferroviaria dove egli era al centro di una folla volgara e curiosa era svenuto e il piccolo corpo vestito di nero stava rattrappito sul marciapiede come in preda alla paralisi penso che avesse una quarantina d'anni perché la faccia pallida e incavata ovale e veramente bella era segnata da profonde rughe nei capelli ondulati e nella piccola barba che dovevano essere stati neri come penne di corvo c'erano tracce d'argento la fronte di un'altezza e un'ampiezza divine era bianca come il marmo pantelico mi disse con l'aldore dello scultore che quell'individuo era la statua di un fauno dell'antica Grecia disseppellita fra le rovine di un tempio e portata alla vita nella nostra età opprimente solo per sentire il freddo e la pressione dei millenni e quando aprì gli enormi occhi incavati luminosissimi capì che sarebbe diventato il mio unico amico il solo amico di chi non ne aveva mai posseduto uno quegli occhi dovevano aver contemplato la grandezza e il terrore di regni al di là della coscienza e della realtà normali gli stessi regni che avevo amato nell'infanzia ma non ero riuscito a ritrovare così mentre allontanavo la folla gli dissi che doveva venire a casa mia essere il mio maestro e la mia guida sulla via dei misteri insondabili lui annui senza dire una parola ma in seguito scoprì che aveva una voce squisitamente musicale una musica di viole profonde e sfere cristalline parlavamo spesso sia di giorno che di notte mentre scolpivo busti e teste d'avorio in miniatura per immortalare le diverse espressioni del mio amico è impossibile riassumere i nostri studi perché avevamo tenuissimi legami con il mondo come lo concepiscono i vivi ci occupavamo di un universo più vasto e spaventoso di un universo di sostanza impalpabile e delusiva che tuttavia ha radici più profonde del tempo dello spazio e della materia di cui sospettiamo l'esistenza solo in certi momenti del sonno facciamo allora sogni molto rari sogni oltre i sogni che non capitano mai agli uomini comuni e solo una o due volte nella vita dei più fantasiosi il cosmo della veglia nasce da quest'altro universo e somiglia a una bolla di sapone fatta da un burlone certo può capitargli di sfiorare la sua matrice ma solo nel senso in cui una bolla di sapone sfiora la bocca ironica di chi la soffia quando è risucchiata per suo capriccio persino gli uomini più colti non sospettano l'esistenza di tali sfere e ne sanno pochissimo i saggi hanno interpretato i sogni e gli dèi hanno riso un uomo con gli occhi da orientale ha detto che il tempo e lo spazio sono relativi e gli uomini hanno riso ma persino l'uomo con gli occhi da orientale non ha intuito che è una piccola parte della verità io volevo qualcosa di più il mio amico era quasi riuscito ad ottenerla poi tentammo insieme con l'aiuto di droghe esotiche facemmo la corte a sogni terribili sogni che si addensavano nello studio in cima alla torre di una vecchia magione nel Kent fra le molte sofferenze di questi giorni la più dolorosa è l'obbligo al silenzio ciò che ho visto e imparato nelle ore di empia ricerca non può essere detto a parole perché al nostro linguaggio mancano termini e concetti dico questo per chiarire che fin dall'inizio le nostre scoperte si basarono su sensazioni indipendenti da quelle che il sistema nervoso umano è in grado di ricevere normalmente sensazioni che giocavano su aspetti paradossali del tempo e dello spazio e al fondo non possedevano un'esistenza autonoma e definita per descrivere le nostre esperienze in termini di linguaggio umano dovremmo chiamarle tuffi impennate ad ogni rivelazione una parte della nostra mente rompeva coraggiosamente i legami con tutto ciò che è presente e reale e si precipitava libera in abissi sconvolgenti e senza luce dove alleggiava la paura infrangendo di tanto in tanto i tipici ostacoli di laggiù rozze e viscose nuvole di vapore come posso approssivamente descriverli in quei voli neri e senza corpo eravamo a volte soli e a volte insieme quando eravamo insieme il mio amico era sempre parecchio più avanti di me ne intuivo la presenza nonostante la mancanza di forme grazie a una specie di memoria fotografica che mi permetteva di vedere la sua faccia soffusa di una strana luce d'oro e spaventosa nella sua fantastica bellezza le guance parevano incredibilmente giovani gli occhi bruciavano la fronte olimpia era incorniciata dalla barba e dai capelli che sembravano ombre del passare del tempo non tenevamo conto perché il tempo era diventato la più vaga delle illusioni so solo che nel processo c'era qualcosa di strano perché constatammo con meraviglia che non invecchiavamo i discorsi che facevamo erano empi orribilmente ambiziosi nessuno dio o demone avrebbe potuto aspirare alle scoperte e alle conquiste che progettavamo sussurrando tremo il solo pensiero non oso essere esplicito anche se confesserò che il mio amico una volta scrisse su un pezzo di carta un desiderio che non osava proferire ad alta voce e che mi costrinse a bruciare il biglietto e a guardare sconvolto le stelle accenerò soltanto che i suoi progetti riguardavano il dominio dell'universo visibile e oltre e secondo quei disegni la terra e le stelle avrebbero dovuto muoversi ai suoi ordini e i destini di tutte le cose viventi avrebbero dovuto appartenergli affermo anzi giuro che non condividevo quelle estreme aspirazioni e qualunque cosa possa aver scritto il mio amico per dimostrare il contrario deve essere falso perché non sono uomo da rischiare le inconcepibili lotte in inconcepibili sfere che ci avrebbero consentito il successo una notte i venti che soffiavano da spazi ignoti ci spinsero irresistibilmente verso il vuoto illimitato al di là del pensiero e dell'essere eravamo bersagliati da sensazioni del tipo più estraneo e riferibile percezioni dell'infinito che al momento ci riempirono di gioia ma che ora ho in parte dimenticato e in parte sono incapace di esprimere ma c'eramo in rapida successione una serie di ostacoli viscosi e mi resi conto che ci eravamo spinti in luoghi molto più lontani di quelli dove eravamo stati fino a quel momento nell'oceano di spazio ignoto il mio amico mi precedeva vertiginosamente e sull'immagine mnemonica del volto luminoso e giovane vedevo un'espressione di sinistra esultanza poi all'improvviso la faccia che galleggiava nel vuoto si oscurò e scomparve e in breve spazio fui proiettato contro un ostacolo che non riuscivo a superare era come gli altri ma incalcolabilmente più denso una massa fredda e viscosa ammesso che attributi del genere si possano applicare alle qualità di un universo immateriale ero bloccato da una barriera che il mio amico e guida aveva superato con successo lottai con tutte le mie forze ed arrivai alla fine del sogno drogato apri gli occhi materiali e vidi lo studio nella torre dove il corpo dell'altro sognatore era rannicchiato in un angolo pallido e ancora incosciente la luna proiettava raggi d'oro sui lineamenti saturi rendendoli fantastici e ascetici insieme dopo un breve intervallo il corpo si agitò possa il cielo pietoso risparmiarmi un'altra vista e un altro spettacolo come quelli che avvennero davanti a me non so descrivere le sue urla la luce impossibile dai suoi occhi impazziti dal terrore in cui si accesero per un istante visioni di inconcepibili inferni so solo che svenni e non mi ripresi fino a quando lui stesso mi scosse ormai sveglio e alla disperata ricerca di qualcuno con cui condividere l'orrore e la desolazione quell'episodio segnò la fine delle nostre ricerche volontarie nelle profondità del sogno sconvolto in preda al timor sacro e profondamente cambiato e il mio amico mi avvertì che non avremmo mai più dovuto spingerci nell'abisso non ebbe il coraggio di dirmi quello che aveva visto oltre la barriera ma dagli insegnamenti che aveva tratto giudicava che per il nostro bene la cosa migliore fosse dormire il meno possibile a costo di prendere droghe per restare svegli aveva ragione come potrei giudicare dalla paura inesprimibile che si impossessava di me ogni volta che la coscienza vacillava dopo ogni breve sonno sembravo più vecchio mentre il mio amico degenerava a una rapidità quasi sconvolgente è orribile vedere i capelli che sbiancano e le rughe che si incidono nelle pelle sotto i nostri occhi e il modo di vivere che avevamo adottato fino ad allora cambiò completamente il mio amico che non mi aveva mai confessato il suo nome e le sue origini ma che conoscevo per un recluso era ossessionato dalla paura della solitudine la notte rifiutava di stare solo e non gli bastava la compagnia di poche persone il suo unico sollievo consisteva nel far baldoria in modo chiassoso e il più sfrenato possibile sicché poche comitive di giovani e gaudenti ci erano sconosciute e il nostro aspetto e la nostra età a volte suscitavano un ridicolo offensivo o il mio amico lo considerava un male minore della solitudine la cosa che temeva di più era trovarsi fuori casa quando splendevano le stelle e se questo avveniva le guardava spesso e con ansia come inseguita da qualcosa di mostruoso nel cielo non guardava sempre lo stesso punto nel firmamento anzi la zona che lo preoccupava cambiava col passare del tempo nelle sere di primavera era in basso a nord est d'estate era quasi direttamente su di noi in autunno si trovava a nord ovest ed inverno a oriente ma in quella stagione era visibile solo nelle prime ore del mattino le sere di mezzo a inverno erano per lui le più tranquille ci vollero due anni perché collegassi quelle paure a un oggetto particolare ma alla fine mi resi conto che dovevo cercare il punto della volta celeste che a seconda delle stagioni corrispondeva al suo sguardo la zona in questione corrispondeva vagamente alla costellazione della corona boreale avevamo aperto uno studio a londra e non ci separavamo mai ma non parlavamo dei giorni in cui avevamo cercato di sondare i misteri del mondo irreale eravamo vecchi e indeboliti dall'uso delle droghe dalle dissipazioni dalla tensione nervosa i radi capelli e la barba del mio amico erano bianchi come la neve eravamo riusciti a sottrarci al sonno in modo sorprendente perché raramente cedevamo più di un'ora o due alla condizione che prometteva una così orribile minaccia poi venne un gennaio di nebbia e pioggia in cui non avevamo denaro e non potevamo comprare le droghe le mie statue e le teste d'avorio erano vendute dalla prima all'ultima non avevo altro materiale e se l'avessi avuto non sarei riuscito a modellarlo soffrivamo terribilmente e una notte il mio amico sprofondò in un sonno da cui non riuscì a svegliarlo ricordo perfettamente la scena lo studio nella squallida mansarda con la pioggia che batteva sul tetto a spiovente il tichettio del nostro unico orologio a parete quello praticamente immaginario degli orologi da polso che avevamo depositato sul comò il cicolare di un'imposta da qualche parte della casa i rumori lontani della città ovattati dalla nebbia e dalla distanza e peggio di tutto il respiro profondo sinistro e regolare del mio amico sul divano un respiro che sembrava la misura della paura e delle sofferenze del suo spirito perduto in sfere proibite inimmaginabili e orribilmente lontane l'attenzione della veglia si fece opprimente e nella mia mente sconnessa cominciò a sfilare una pazzesca concatenazione di banalità sentì un orologio suonare da qualche parte non il nostro che non suonava e la fantasia morbosa ne approfittò per abbandonarsi a un'altra serie di assurde divagazioni orologi il tempo lo spazio l'infinito poi tornai al presente e mi dissi che la corona boreale stava per sorgere a nord est la corona boreale che il mio amico temeva così profondamente e il cui scintillante semicerchio di stelle doveva brillare anche in quel momento invisibile attraverso le distese sconfinate dello spazio e all'improvviso le mie orecchie sensibilissime individuarono una componente nuova e distinta nel concerto di suoni amplificati dalla droga un sibilo basso e insistente che veniva da lontano un richiamo beffardo incessante ronzante che veniva da nord est ma non fu il suono in se stesso a farmi perdere i sensi e ad imprimere sulla mia anima un marchio di terrore che in tutta la vita non riuscirò a cancellare non fu quello a provocare le urle e l'agitazione che attirarono vicini e polizia e li indussero ad abbattere la porta non fu ciò che sentii ma ciò che vidi perché nella stanza buia chiusa a chiave con le tende imposte e tirate era apparso sull'angolo di nord est un terribile fascio di luce rosso oro la luce non disperdeva le tenebre ma si concentrava sulla testa del dormiente e formava davanti a me un duplicato della faccia giovanile che avevo visto con gli occhi della memoria tutte le volte che mi ero avventurato nell'ignoto la stessa faccia che avevo visto per l'ultima volta prima che il mio amico superasse la barriera di quelle segrete profonde e insondabili caverne d'incubo mentre guardavo vidi la testa che si alzava gli occhi neri liquidi e profondamente incassati che si aprivano dal terrore e le labbra sottili in ombra che si dividevano per miniare un urlo troppo spaventoso per essere emesso nelle tenebre splendeva una faccia inflessibile e spettrale incorporea ma ringiovanita sulla quale si rifletteva una paura assoluta sconvolgente più feroce di quella che il cielo e l'inferno mi avessero mai mostrato il sibilo in lontananza si faceva sempre più vicino ma non c'era posto per le parole segui lo sguardo della faccia ringiovanita che risaliva al punto d'origine della luce e del suono e lungo il fascio rossastro vidi per un attimo ciò che vedeva il mio amico fu allora che mi abbandonai alle urla e alle convulsioni che richiamarono polizia ai vicini ma non potrò mai descrivere quello che vidi nemmeno la faccia immobile avrebbe potuto dirlo perché sebbene vedesse più cose di me non avrebbe mai più parlato ma sempre mi guarderò dal beffardo e insaziabile ipnos signore del sonno che si asita nel cielo della notte e mi difenderò dalle pazzesche ambizioni della conoscenza e della filosofia il senso ultimo della tragedia resta ignoto perché la mia mente era sconvolta e quelle degli astanti si rifugiarono in un rifiuto della realtà che sconfina con la pazzia mi dissero non so per quale ragione che non avevo mai avuto un amico e che la mia tragica vita si era riempita esclusivamente di arte filosofia e follia inquilini e poliziotti cercarono di calmarmi e il medico mi diede un sedativo ma nessuno sembrò accorgersi della terrificante tragedia la sorte del mio amico non li commosse ma ciò che trovarono sul divano dello studio li indusse a rodarmi con parole che mi disgustarono e che oggi mi hanno portato a una deprecabile fama calvo con la barba lunga affranto e divorato dalle droghe me ne sto seduto per ore davanti all'oggetto che fu trovato nello studio adorandolo e pregandolo la gente nega che avessi venduto la mia ultima statua e indica con meraviglia ciò che il fascio di luce rossa aveva tramutato in pietra munta incapace di emettere un ultimo grido eppure è tutto quello che rimane del mio amico l'amico che mi ha spinto sull'orlo della follia e del naufragio una testa divina di un marmo che solo l'ellade può dare un volto giovane di una giovinezza che trascende il tempo con le labbra curve e incorniciato dalla barba una fronte olimpia con i capelli mossi e cinti di fiori dicono che quel volto stregato sia modellato sul mio quando avevo venticinque anni ma sulla base di marmo è scritto un altro nome nelle lettere d'attica Hypnos di marmo di marmi Мmostri di marmo di marmo nella ma di marmo di marmo di marmo 這種 i Grazie a tutti.